credo che possiamo consentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità non è che torniamo a come eravamo tre mesi fa mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea mandiamo i carabinieri ma li mandiamo con il lanciafiamme io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età andavano a correre senza mascherini con una tuta che arrivava alla caviglia con una seconda tuta alla zuava questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore qualcuno mi ha mandato qualche lettera ma con queste decisioni noi non è che possiamo riprendere la movita la mia risposta è sempre dice ma tu sei scemo o sei buono cioè riprendiamo la movita ma 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 per la campagna la fase 2 è già cominciata ora è tanto grande il sacrificio di aspettare due settimane due settimane tre settimane vediamo quello che succede da oggi in poi tutti con le mascherine chi non indossa la mascherina è una bestia ma immaginare di avere oggi gente che va sputacchiando goccioline di saliva è una cosa intollerabile finiamola con queste stupidaggini quindi Grazie a tutti